Preghiera del mattino Tu manifesti la Tua gloria e la Tua potenza e Simon Pietro esclama Signore, allontanali da me che sono un peccatore. La Tua luce risplende non per schiacciarci e spingerci di nuovo verso le tenebre, ma per trasfigurarci con Te. La Tua risposta al primo degli apostoli significa non guardare Te stesso, poiché se è vero che Tu sei indegno, non c'è nessuno che non lo sia. Non guardare la Tua miseria, volgi invece a me il Tuo sguardo e io Ti farò pescatore di uomini. Le reti sono delle nostre mani, fa che distogliamo lo sguardo da noi stessi perché Tu possa mostrarci l'immensità del compito da svolgere. Amen.